Cosa vuoi mangiare, Stassi? Pizza! Ho otto anni! Voglio sempre mangiare pizza! Fantastico! Possiamo fare una pizza! O la possiamo ordinare, invece? No! Se la facciamo è più divertente! Divertente per te, forse! Divertente per noi, padre e figlio! Va bene, papà! Perfetto! Puoi prendere farina, acqua e sale? Certo! Ora possiamo mettere tutto insieme! Loro mettono insieme la farina, l'acqua e il sale! È così difficile! E io ho fame! E ora dobbiamo aspettare! Dobbiamo aspettare! L'impasto non è ancora pronto! Quando sarà pronto? Tra due ore! Junior guarda Eddie! Posso ordinare una pizza? Sei un papà fantastico! Pronto! Sale! Farina! Mettere! Ordinare! Ordinare! Questo è tutto! Impressionante! Hanno! Vi�니다! Grazie.